Allora siamo nell'area industriale di Galdo e c'è un'impresa, i Gemelli Chiarelli che molti conoscono, queste immagini fanno vedere anche un po' un presidio assolutamente pacifico che è stato per il momento che è stato posto per manifestare, per evidenziare un disagio. Allora vogliamo parlare di questo disagio legato ad alcuni lavori non pagati sull'autostrada. E da dicembre noi abbiamo completato, sono due o tre anni che lavoriamo con GLF, quindi non è poco. A dicembre abbiamo completato, abbiamo abbandonato il lavoro proprio per i soliti ritardi che ci sono in queste, un po' con la crisi, un po' con tutto, però con i soliti ritardi. Adesso è passato più di un anno, dopo varie sollecitazioni, pure tramite avvocati e roba varia, non ci vogliono riconoscere a questo punto il credito, non è una questione di ritardo per varie, dicese, non lo so, non abbiamo capito nemmeno il motivo per cui questo ritardo. Siamo arrivati adesso da ieri che facciamo questa protesta, siamo arrivati a un punto nel senso che finalmente hanno contattato il mio legale e sono in questo momento in trattativa per cercare di trovare una soluzione. Ecco, fatti fare una domanda, secondo te il fatto che hanno contattato il legale è perché voi in qualche misura state protestando in maniera evidente o perché l'hanno pensato a prescindere da questa protesta? Secondo te c'è stata un po' una causa ed effetto? Questi agiscono pensando che hanno il potere tutto nelle loro mani, perché solo dopo della protesta, perché io li ho minacciati che perdevo la testa, buttavo giù il viadotto, a seguito di questo sono arrivati a questo incontro, perché non è da poco, voglio dire io da marzo, aprile, da settembre siamo arrivati al punto di varie lettere di sollecito con l'avvocato a trovare la soluzione, dovevo prendere i soldi che mi spettavano, del lavoro eseguito a dicembre, quindi non è da poco. Dopo di questa protesta adesso per chiudere la situazione sono venuti finalmente a una trattativa. Però mi sento veramente, voglio dire, oggi non perdiamo, perdiamo un po' tutti quanti perché non si può arrivare a questo, le istituzioni dovrebbero agire prima, non si può arrivare a minacciare di fare un reato solo per prendere quello che ti spetta, per lavori eseguiti, ripeto, il 31 dicembre 2012, lavori eseguiti, contabilizzati a gennaio, quindi non è che è qualcosa di, cioè un anno è troppo, non si può arrivare a questo. Anche perché poi sappiamo che ci sono le fatture, c'è l'IVA, c'è tutto un meccanismo che ci sono le tasse che poi comunque vanno pagate, lo Stato non è che è molto comprensivo da questo punto di vista. Mi pare, diciamo, che c'è una delusione di fondo, anche perché abbiamo saputo, ci è stato riferito, che nei mesi del vostro impegno lavorativo vi è stato un super impegno, nel senso che si chiedeva a voi di tutto e di più anche in termini di operatività. Noi abbiamo lavorato 4-5 mesi, 15-16 ore al giorno, noi titolari, gli operai, quello che potevano fare, ma c'è stato addirittura perfino lettere di sollecito che ci facevano pagare i danni se non completavamo i lavori in determinati tempi, con una fretta impressionante. Una volta che fai il tuo dovere e ottieni, cioè voglio dire, i risultati, che comunque consegni i lavori secondo le loro procedure e tutto il resto, non vengono riconosciuti, i nostri sacrifici è veramente demoralizzante. Dopotutto voglio dire che ognuno cerca di fare il proprio, però si deve arrivare a fare queste proteste per ottenere il diritto dovuto, è una cosa impressionante, non ci sono parole per questo. È trascorso un anno, da contratto avevamo pagamenti 240 giorni, adesso se ne sono venuti fuori, è una cosa impressionante, non abbiamo parole per il resto. Ecco, forse non è facile far capire magari alle persone che non sanno di impresa, insomma, non conoscono un po' tutti gli aspetti dell'impresa, cosa significhi arrivare poi ad un certo punto e non avere il famoso bonifico, insomma, perché poi va e crea veramente un disagio enorme all'impresa per le cose che abbiamo detto prima, le tasse, ma non solo, credo anche pagare gli stessi collaboratori, le materie prime. Cioè, qua siamo in un territorio che non è che abbiamo altre entrate oppure noi lavoriamo con il nostro, cioè senza l'aiuto di nessuno, con i nostri sacrifici. Gli operai sono con noi, ma non sono operai, sono padri di famiglia, ma noi li trattiamo come fratelli. Cerchiamo di fare l'impossibile per cercare di andare avanti, le tasse vanno pagate, le spese ci sono. Cioè, 240 giorni per un'impresa come la nostra è una cosa impressionante. Cioè, un operaio non può aspettare 240 giorni per prendere i soldi, a fine mese deve mangiare come mangiano tutti. È una cosa impressionante. Tra l'altro parliamo anche di cifre importanti, insomma, e che quindi ovviamente producono dei disguidi. Non so se i vostri collaboratori vogliono dire qualcosa, Stefano, no? Chiaramente solidali. La cosa che voglio dire io, la cosa impressionante è per il territorio. Si lamentano un po' tutti per il fatto che non c'è lavoro. Veniamo pure dalla protesta dell'operaio davanti al comune un altro giorno. Noi non chiediamo lavoro perché noi il lavoro non ci c'è, voglio dire, tutti i giorni ci sono i clienti che ci chiamano. Noi chiediamo solo che venga rispettato un po' tutti i sacrifici che fanno le persone. E questo deve arrivare un monito alle istituzioni perché sono le istituzioni che devono tutelare tutti i diritti di chiunque. Questa è tutta la questione. Per concludere, permettetemi una domanda un pochettino più generale, nella quale chiaramente siete inseriti appieno anche voi. Vi è un po' una delusione in generale per questi lavori autostradali? In questi anni, negli anni precedenti, si aspettava quasi con un conto alla rovescia questi lavori? Calcolando che un'opera del genere costa allo Stato 300 milioni di euro, noi abbiamo fatto un contratto di 300 mila euro che è neanche l'1%. Cioè, quell'1% che vuol dire che noi abbiamo la sede a ridosso dell'autostrada, non siamo a 10 km, siamo proprio nell'autostrada. Quell'1% non ci viene neanche riconosciuto, è proprio perché è la terra di nessuno. Vengono da fuori, vengono da tutte le parti, però a noi questo non ci interessa, perché comunque noi non è che dobbiamo litigare il lavoro. Però è una cosa impressionante. Poi non è che sono soldi di comuni che devono rispettare parte di stabilità e tutto il resto. I soldi sono finanziati dal Cipe già da anni, quindi i soldi ci sono. Sono loro che fanno istruzionismo e approfittano della terra di nessuno. Questo è tutto il problema. Poi anche un altro elemento, che speriamo e certamente non sarà così nel vostro caso, vi sono anche delle forme, vi sono i concordati, che diventano un grosso problema per le imprese. Anche qui magari chi sta ascoltando questa intervista magari non riesce fino in fondo a seguirci in questo aspetto tecnico, che poi ha poco di tecnico ma molto di concreto e cioè in pratica quando si arriva alla fine di un lavoro ci sono dei problemi e alla fine si stabilisce una cifra molto molto inferiore a quella pattuita e questo significa per l'impresa la morte certa. Questo problema è un problema serio che sicuramente va affrontato, perché le imprese, il motivo per cui non si dovrebbero accettare i pagamenti oltre i 30-60 giorni, questo dovrebbe essere il nazionale, voglio dire, a trovare una soluzione, perché queste grosse imprese, io conoscendo un po' ma quello che avanza di meno saranno 300-400 mila euro e a fine lavori, quando hanno fatto un concordato i soldi li prenderanno quando i giudici decideranno, quindi secondo me è un sistema che veramente non può funzionare, ci dovrebbe essere un sistema che dovrebbe garantire pure l'impresa. Fermo restando che la regola principale per qualsiasi impresa che agisce sul territorio è far lavorare prima l'impresa del posto e poi quelle di fuori. Questo qui a Lauria non è successo, chiunque è venuto, diciamo, in un lotto di 10 chilometri ogni 100 metri c'era un'impresa di fuori, quindi le imprese del posto non sono state tutelate per niente, questo è tutto il problema. Un'ultima domanda, una domanda supplementare, partiamo dal presupposto che la cosa si risolve, cerchiamo di essere ottimisti. Qualora non si risolvesse o comunque si allungano ulteriormente i tempi, perché qui mi pare che venga fuori un po' la dilazione, allora 200 giorni, poi altri giorni ancora. Abbiamo aspettato, voglio dire, gli abbiamo dato tutte le disponibilità del mondo a trovare qualsiasi soluzione per il passato. Siamo arrivati a questa protesta perché non ce la facciamo più, nel senso che noi gli diamo nemmeno un secondo in più di tempo, quindi o ci danno i soldi, se no la nostra protesta proseguirà con presidi sul chiusura delle strade e vediamo che succede. Spero di no perché siamo fiduciosi, perché proprio da impresa siamo fiduciosi e siamo ottimisti, quindi spero che abbiamo notato una certa disponibilità da parte di GLF a trovare un accordo, cosa che fino a ieri a mezzogiorno non c'è stata, quindi da adesso siamo un po' più fiduciosi e aspettiamo l'esito dei legali. Permettetemi di fare la chiosa finale, tutto questo avviene a Natale e che in qualche misura aggrava, voi siete giovani, avete bambini, vi conosco, quindi sicuramente non è un bel Natale, a prescindere poi da come va a finire, perché non si può arrivare allo stremo in questo modo. Su questo fatto devo fare un mondo perché noi non lavoriamo solo e esclusivamente per l'autostrada e grazie a Dio colgo l'occasione per ringraziare tutti i clienti che ogni giorno ci sostengono perché preferiscono scegliere la serietà, la puntualità e grazie a Dio fino a oggi ci siamo sempre fatti Natale. Penso che non è l'unico credito che abbiamo, l'unico sussidio all'autostrada, come in molte tante imprese vedendo l'autostrada si sono lanciate il capofitto, noi l'abbiamo visto, se ci è utile lavoriamo, se non ci è utile facciamo altro perché meno male abbiamo un'attività che sta crescendo degli anni e giriamo tutto il territorio del Lago Negrese, quindi grazie a Dio Natale lo facciamo anche senza grandi lavori.